Qua! Ho detto va beh andiamo a fare... Perchè abitavo all'oggiata insieme a mio padre e a mia madre. Si si abitavo all'oggiata. No perchè qui appunto vengono o dalla sola o dalla sola o dalla sola o dalla sola o dalla sola. La prima volta ho davoggiata. Siamo venuti al funerario di un amico, un paio d'anni fa morì il padre, è bellissimo quel cimitero piccolino. Da quel punto di vista, sì, decisamente. Penso a Prima Porta. Quei cimiteri sono in decente. Allora, vediamo un po', la prima volta è buono senza monitor, però per farlo vedere al volo. Sì, allontaniamoci un pochetto, ora sono 20 giorni che non volo. Allora, siamo arrivati nel momento in cui si deve concentrare, l'abbiamo visto. La lasciamo, ci togliamo il ritorno, la lasciamo lavorare. Allora, ti lasciamo lavorare. Sì, no, ma non devo fare niente, perché ho 10 minuti, perché poi mia moglie deve stare a un quarto da una parte, quindi per lo sbrigaccio è traffico. Allora, led verde GPS. È tutta la lista dei controlli. È certo. Manuale. Lo vedi? Ma tu non te ne hai mai accorto che c'era, me ne so accorto io. Perchè con il fotografo che mi fa le fotografie. Cioè, ci stanno inventando. Allora, questa palestra sarebbe benissimo vedere l'allato. Ci sono inventati un trabattello, le corde. E questo è eccezionale. E questo è eccezionale. Magari, apposta... Attenzione lì davanti, eh. Giorgio, attento, scanto. Porta la decima parte... Giorgio, attento, scanto. Sì, è bello. È bello. Invece, adesso... Ma si porta presso pure la satellizzazione. Sì. Ma questa è quella così. C'è un po' di aria, che è un'incommodazione... di gioco. E questo, in teoria, l'acquisizione di fotogrammetria si fa 60 metri. e chiaramente se tu stai in centra pirale ma non la penso ma tu stai e lei la cazzo di segnare i miei diciamo che si deve fare in un'idea perché non abbiamo un'idea questo è 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 un'idea e poi lì c'è la limona questo è un'idea si fa anche con la ah mi sono dirò ma si deve con la rapista che non va io perché stiamo andando sì no no bisogna fare le cose bisogna farle in questo caso e questo lo prendi? è un bel attretto eh sì ci si prova io provo perché è l'edilizia ferma che per certi versi a me mi dà da mangiare anche se sono più per l'edilizia del recupero no vabbè invece sarebbe perché si non va là si fa la riscata cioè questa è l'idea che voglio fare qua però adesso sono venuto così velocemente ma fondamentalmente c'ho un amico che c'ha un ex mulino funzionante la rimessa al posto e ci ha fatto una villa bellissima che c'ha la cascata al fianco alla gara stai conti? c'è una cascata e te credo di almeno 10-15 metri che è un affluente del Volturno ma una bella portata il triplo di queste qua una bella mini Kaplan si continua certo la cascata ma c'hanno una portata meno o meno o meno 3 volte quella 1500-2000 watt di le cascata in 2005 con 10-15 metri delle cascate io mi ricordo quando facevamo vendivamo le Kaplan e si vedono le caplan e noi e noi avevano 3 kilowatt di potenza lese ma niente e tu pensa che con la veduta dei 10 metri un triplo fa un kilogramme cioè fa 10 kg un litro d'acqua fa 10 kg 10 kg diviso 6 kilowatt al metro ma che significa che ci fanno i mezzi dei mezzi ma esistono i mezzi di 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 mezzi però se tu ne fai i 15 se ne fai in azienda ne fai 10 mila al giorno da 3000 euro del costo non è sempre 300 euro a tutti i celli che le tratti di una teglia che le tratti a tre di un citarello a tre vedi come è autostabilizzante proprio ma sei che attrezza c'è una maneggiovolezza incredibile proprio guardi questa è la quarta pozzia l'ho preso anche altre volte però diciamo da tutti i posti che si seguono volendo sì e comunque si può preparare la sensibilità dei comandi no? sì è bello però là non voglio fare troppo rispettivo è bello poi c'è il samoni adesso a me interessa più avere la sicurezza del mezzo no? perché come tutte le cose silenziosissimo poi anche sì, sicuramente sì ma voi immaginate per esempio fare una cosa del genere sulla terra dei fuochi con un'intradossa allora io sto per dire se ti lo permette eh esatto se ti lo permette guarda il vento che c'è quindi c'è anche di solo che si divarica sì guarda che corrente lo stai rimanendo? l'ho ripreso sì non è facile non è facile vedi un caso bisogna dire 20 minuti e 9 minuti questo vuol dire stare 9 minuti 3 fermo e stasionato ok chiaramente lo giusto delle partiglie no almeno quando uno va a destra si mette un'intradora si mette un'intradio si mette un'intradio si mette un'intradio quindi il distronto è quell'altro è proprio fermo quella è in destra mi sta attacchietto un metro e venti si mette un'intradio allora più o meno così se non è vero l'intradio non è vero 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 allunaggio si disarma e basta fondamentalmente si va all'applicazione con quell'altro io faccio tutto in automatico con popolento faccio